Riprendiamo queste riflessioni a voce alta, questo incontro oramai consueto nella domenica con il professor Guglielmo Cevolin, esperto di geopolitica, opera con l'IMES e con Istoria. Nell'ultimo numero dell'Internazionale, che è una delle riviste che io leggo per documentarmi più che altro, c'è nell'ultimo numero la copertina e all'interno un bellissimo articolo di Adam Tose dove è chiaro il concetto. Cosa c'è dopo l'Ucraina? Lo dico a lei. L'invasione russa mette in discussione l'ordine mondiale ed è la vita di un'epoca di difficili compromessi per assicurare la pace. Così Adam Tose scrive. È d'accordo? Sì, diciamo, la domanda è anche un po' più peperina ancora perché in realtà qui i ragionamenti che iniziano a essere c'è che dopo l'Ucraina ci sarebbe la Moldovia e quindi qualche altro Stato mira di invasione da parte della Russia. Ma già adesso in realtà siamo in un confronto tra le superpotenze. Pensiamo alla Cina. Pensiamo alla Cina che è vero che non ha dato le armi, che non dà armi alla Russia. Però è anche vero che non si è spostata dall'alleanza senza limiti che aveva stabilito all'inizio di febbraio con la Russia. E' anche vero un'altra cosa che non c'è un altro motivo, o comunque lo chiedo a tutti voi di spiegarmelo, di perché a Shanghai con 14 contagiati ci sia una situazione da dove vengono prelevate le persone per casa e portate in dei sanatori sporchi, in delle situazioni... Guardi, l'ho detto qualche giorno fa, professore, tanto per essere chiari, italiani che vivono a Shanghai, che conosco, ogni mattina vengono prelevati dalla loro abitazione, portati in giardino e devono farsi il tampone e poi rimandati a casa. Li prendono e portano via. Se lei si rifiuta di farsi il tampone, finisce in galera. Se lei esce di casa senza nessun motivo perché c'è il lockdown, viene arrestato. Allora io non arrivo a capire perché. O la Cina è a conoscenza di una nuova variante, nella quale ancora noi non sappiamo nulla, che è talmente pericolosa che deve essere gestita in questo modo, oppure questo è un modo per far vedere a noi democrazie farfallone, come ci si comporta nei confronti della pandemia. Cioè, mentre loro sono capaci di tenere questo tipo di controllo, nei nostri paesi scorre tutto. Quindi ecco, siamo in una contrapposizione tra l'autarchia russa che è pronta a fare la guerra, siamo all'autarchia cinese che sta facendo la guerra al virus in una maniera totalitaria, probabilmente anche un po' esagerata, se è vero che ci sono solo 14 contagiati e di un contagio che comunque non è esiziale, come invece sembrava che fossero le altre varianti. E quindi vediamo che stiamo vedendo quantomeno la contrapposizione ormai netta di due stati, di due modelli, che hanno dichiarato insieme, Putin e Xi, i due leader, hanno dichiarato che loro sono due democrazie in modo diverso da quelle che siamo noi. e quindi ecco che è la contrapposizione netta. Siamo già in una situazione di nuova guerra fredda, siamo già in una situazione di contrapposizione per loro. Scrive ancora, scrive ancora in questo bellissimo pezzo, la lettura più ovvia è che questo leader autoritario, riferendosi a Putin, premetto che internazionale non è per nulla di destra, tra le altre cose. Ma ci sono riportati tutti gli articoli di tutte le principali riviste, il Financial Times, l'Economist. Tutti, 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 esatto, bravissimo. È un po' una rassegna stampa. Sì, una rassegna stampa internazionale. A me piace perché, insomma, la lettura piove che questo leader autoritario non abbia mai davvero accettato il verdetto pronunciato dalla storia del 1991 e non si sia mai riconciliato con il crollo dell'Unione Sovietica. Di conseguenza non accetta la pretesa degli Stati Uniti e dei loro alleati di definire l'ordine mondiale. Già nel 2007, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Bavira in Germania, Putin lanciò la sua sfida all'Occidente. Da allora ha atteso il momento più favorevole per rivedere i termini di dipendenza dell'Ucraina. Avrebbe potuto farlo già nella primavera del 2014, quando dopo la rivoluzione di Maidan il Cremlino pensò ad una invasione su vasta scala, salvo poi optare per l'annessione della Crimea e l'appoggio ai separatisti del Donbass. Però perché non ci chiediamo se non è il caso invece di ritornare ai ragionamenti della guerra fredda con i famosi corridoi strategici, con la denuclearizzazione di alcune zone almeno? E così via, così via. La mia domanda, se lei fosse... No, mi scusi, perché da qua è molto facile, abbiamo 50 attestate nucleari ad Aviano. No, ma mi scusi, se lei fosse presidente di un libero Stato, dico di un libero Stato, la Polonia, l'Ucraina, mettiamo l'Italia, che confini con la Russia. Mi scusi, lei come presidente di un libero Stato, non può optare per la Nato? La mia domanda è questa. Questo è ovvio che... Deve dirlo Putin se può o non può? No, il ragionamento però è... Ma la Polonia... Sta la Nato può decidere se prenderla o no. È più sicura la Polonia, se c'è un accordo tra la Russia e gli Stati Uniti, di non mettere in una fascia di 300 km le bombe nucleari, o è più sicura la Polonia con la Nato, all'interno della Nato, con tutti i missili possibili e immaginabili della Nato? Perché la Russia non ha i confini con un paese che non è nella Nato, missili nucleari puntati su Berlino, nell'enclavo? Kaliningrad, penso che ci sia qualcosa. Kaliningrad, ha detto bene? Non lo so, non me l'hanno detto. No, ma è stato confermato. 64 testate nucleari? Ecco che è un buon motivo per iniziare a mettersi d'accordo. Cari russi, voi avete Kaliningrad, le togliete? No, va bene, non le togliamo. Allora noi le mettiamo qui. Ma allora, perché non iniziamo a togliere da una parte o dall'altra? Bisogna arrivare in quella fase lì. Solo che per arrivare in quella fase lì, certo non è questo il momento della guerra, il momento buono. Ma io... Guardi, la prima cosa, dico la sincera verità, sono rimasto anch'io scioccato dopo la caduta del muro, erano passati pochissimi anni, e andai per lavoro in Polonia, l'ho già anche raccontato nelle telegiornali, andai in Polonia per lavoro, perché là c'era una riunione dei rappresentanti delle regioni in seno a Bruxelles. Il Comitato delle Regioni, così è chiamato. E io ho seguito un po' i lavori, allora c'era il rappresentante per i Friuli, Isidoro Gortano. E andammo in Polonia, andammo in Polonia, in un paesino, un paesino che fu tra i primi ad essere occupato da Hitler, tant'è che fece proprio un discorso Hitler in quel paese, e c'è come una specie di museo, di museo storico, dove ci sono le fotografie e quant'altro. Quando arrivamo in questo paesino e atterrammo con questo aereo, io quello che vidi rimase un po' così, perché c'erano più aerei americani, fermi, americani, di quel tempo gli aerei, aerei militari, che non aerei civili. Allora ho cominciato a capire che qualcosa stava muovendosi. E' da lì che parte il tutto, no? E' vero. Quei paesi che, in qualche modo, dopo il gioco comunista, si sono sentiti liberi di decidere, lo ha detto lo stesso Bellinguer, quando era, ha detto io mi firo più della Nato, si ricorda? Bellinguer. Comunque, quelle iniziative di Isidoro Gottardo con il Comitato delle Regioni, e così via, sarebbero le iniziative tipiche dell'Europa, tra l'altro, il Comitato delle Regioni, se voi andate a Bruxelles, tra i funzionari della Commissione, per esempio, è un organismo che viene ridicolizzato, tra l'altro una vergogna. Io, nel momento in cui mi troverò di fronte a un commissario della Commissione Europea, che mi ride in faccia, perché siamo con una delegazione del Comitato delle Regioni, eccetera, dico io chiedo le dimissioni, perché è un organismo, è un organismo di base... Ma l'ho visto anche come lavorano, attenzione, di tutti i paesi europei. Sì, ma è un organismo di base, della società civile, dei comuni, cioè ci sono le istanze come quelle delle nostre città che vanno a un livello più elevato e che parlano di argomenti sui quali il Comitato delle Regioni non ha competenza immediata, non ha la possibilità di decidere, ma ha la possibilità di innescare delle delibere, delle decisioni, di far partire un meccanismo decisionale, molto lento, molto difficile, ma è l'unica costruzione della pace dalla base, perché se no, se invece ragioniamo solo con i termini dei commissari europei o dei membri governativi, non riusciamo a fare quei passi avanti che invece la società civile riesce a fare. Certo, ma questo aspetto del Comitato delle Regioni per esempio mi hai dato una bella idea di andare a vedere cosa sta facendo in questo periodo il Comitato delle Regioni probabilmente completamente inascoltato, completamente inascoltato perché è un organismo sebbene di base, sebbene di grande livello eccetera eccetera che conta molto meno, già il Parlamento europeo non conta tantissimo. Mi scusi, dipende anche poi da chi è composto questo Comitato perché se sino ai tempi 2000 c'erano politici no, con esperienza venivano non il primo che arrivava andava a Bruxelles in questo Comitato bisogna vedere anche chi perché se c'è lei è quello che punta i piedi. Ma il problema è che una volta c'era anche il ragionamento che sta dietro a questa opzione con il ricordo di Isidoro Gottardo e che c'era dietro anche la sezione di partito c'era anche il partito dietro c'era anche tutto è questo che non c'è completamente nella società civile di oggi dove io insieme al professor Caliciuri quindi ho le spalle coperte il presidente della società italiana di Intelligence c'è l'impressione che viviamo nella società della disinformazione e dove i nostri invece di riuscire a fare delle assemblee dei comitati di seguire i nostri politici che vanno al comitato delle regioni eccetera eccetera siamo un po' come i pesci rossi abbiamo la memoria dei pesci rossi ho l'impressione anche l'intelligenza dei pesci rossi perché non ci occupiamo anche queste questioni noi di storia stiamo facendo continuamente abbiamo fatto il corso di geopolitica abbiamo fatto 11 appuntamenti quest'anno anche se non avevamo le energie e le risorse adesso faremo ancora delle iniziative c'è una rispondenza da parte della gente della gente che chiede soprattutto fanno soprattutto domande intervengono moltissimo facendo molte domande molte domande beh sa anche in questi momenti io vedo la gente esce si fa per dire dalla pandemia perché la pandemia c'è ancora se Shanghai usa questi metodi qualcosa deve sapere più di noi ok ammettiamo così ma io ho l'impressione anche che sia un modo di far vedere che loro sono più forti dai parliamoci chiaro io ho l'impressione che vogliono far vedere anche che sono più bravi di noi che loro hanno zero contagio bisogna vedere anche se il vaccino loro ha funzionato anche questo è un qualche cosa che non si sa non si sa non si sa ma il problema è che oggi comunque oggi comunque stiamo vivendo è un momento difficile anche dal punto di vista psicologico dal punto di vista psicologico lei tra l'altro è un docente universitario si accorgerà anche lei no? si io mi trovo molto in difficoltà con gli studenti universitari di questi tempi perché non sono gli studenti universitari che eravamo noi che non avevamo come dire paura di niente nel senso ci vedeva chiesto di studiare l'encicolpedia britannica la studiavamo ma non rimavamo nemmeno a casa chiusi come cagnolini come sono rimasti questi qua insomma parliamoci chiaro si forse anche però io su questo sono un po' cattivo bombardati con i social non siamo stati così vezzeggiati dalle professoresse e con i genitori con i genitori che vengono a protestare se si è usato mettere in discussione la preparazione del loro del loro a succedere questo sì e la normalità vengono a scuola mi dicono con avvocati mi hanno detto mia sorella insegna in una scuola in una scuola pubblica superiore e mi dicono che che il giorno più pesante per i professori è il ricevimento dei genitori eh certo il ricevimento dei genitori ma del resto se vede questo lassismo che c'è è dovuto anche agli stessi genitori perché qualche giorno ieri l'altro ieri in pari a Siena hanno 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 bloccato delle ragazzine a 14-15 anni che malmenavano loro coetanee che le depredavano ecco questo con il telefonino facevano le riprese e poi le mandavano in circolo altri che hanno violentato un'altra loro amica ubriacandola e gli amici dicevano beati voi questa è l'Italia oggi proviamo a pensare per esempio a me diciamo è capitato poi ho seguito altri colleghi che hanno avuto queste vicende cioè quelle di difendere i figli di genitori che hanno avuto episodi di bullismo di questo tipo dove per esempio in alcuni casi la scuola cerca di nascondere ovvio di nascondere ovvio una sorta di consulenza per cercare di avere come dire di scoprire queste situazioni di affrontarle ecco sicuramente qui si c'è bisogno di un aspetto psicologico ma un aspetto psicologico per curare i bulli per curare i bulli perché perché il comportamento di questi che non sono dei ragazzi vivaci ma sono dei ragazzi da questo si da annientare al suolo guardi che sfonda una porta aperta sfonda una porta aperta perché poi il bullismo con la psicologia cioè io sto dicendo annientare al suolo attraverso delle un'assistenza psicologica adeguata quindi come dire io non sono uno psicologo quindi dico attraverso un'assistenza psicologica adeguata bisogna riuscire a portare a offesa zero questi bulli però con un'assistenza psicologica non con un empirismo così bisogna farlo bene come i soliti incontri per parlarsi addosso per ricevere il soldino per invitare Pizio e Caio e poi chiuso lì ha capito bisogna andare alla radice della questione come io spero si vada alla radice per arrivare a trovare una soluzione alla guerra certo oggi non puoi pretendere che la pace arrivi da un momento all'altro oggi le cose sono un po' troppo io vedo però per esempio a Chieve sono ritornati i cittadini perché non vorrei che tornassero a bombardare Chieve le istanze ecco dei cittadini questo per esempio ci sono delle manifestazioni mi pare dei cittadini ecco tutto questo in realtà ha un suo peso certo finché adesso gli obiettivi come dicevamo secondo noi la prossima settimana sarà una settimana di ancora innalzamento delle tensioni e del tentativo di raggiungere degli obiettivi militari che sembrano prefissati adesso in maniera più chiara è chiaro che non dovrebbe essere questo il periodo però intanto bisogna iniziare a montare con la società civile una capacità di sostegno che è più di quello in realtà poi per la pace delle armi io ringrazio ancora una volta il professor Guglielmo Cevolin il nostro esperto in geopolitica tra l'altro esponente di Limes in Friuli Venezia Giulia e di Istoria questa associazione benemerita che organizza che organizza in tutta la regione e non solo anche extra regione degli incontri dei dibattiti come posso dire delle riflessioni a voce alta su quanto avviene all'interno del pianeta Terra io lo ringrazio tra l'altro vedete io non ho letto notizie piuttosto diciamo così forti in merito a quanto sta accadendo anche nel Kurdistan la Turchia ha iniziato nuovamente a bordare il Kurdistan però passa sotto ha capito la Turchia è un agente di pace adesso sì si va a fare si mette a fare no le tre carte con Russia e Ucraina però bombarda il Kurdistan leggermente un infido ecco direi Bombarda il Kurdistan e vorrei sottolineare che la Turchia fa parte della Nato e mi fermo qui per per non andare oltre ma ne parleremo anche con il professor Guglielmo Cevolin la prossima volta l'appuntamento è a domenica prossima sperando che vi essere smentiti che questa settimana invece sia una settimana speriamo mai dire mai grazie ancora professore e grazie a voi e la programmazione sul 13 continua grazie a tutti